Noi vediamo oggi il risultato di un anno e mezzo di deprivazione del verde, di deprivazione del contatto con la diversità, con i ritmi naturali, con la molteplicità delle forme di vita che è l'esperienza quotidiana di poter stare insieme alle piante, insieme al mondo che le piante permettono e alla vita. La green care nell'ambito della salute mentale favorisce stile di vita appropriati, abitudini sane e contenuti emotivi ed esistenziali che generano benessere e capitale sociale. Questo movimento nato in Inghilterra sta sempre più assumendo una dimensione globale e sempre più sta diventando importante perché porta grandi benefici sul piano fisico e psichico. Proprio questo contatto diretto con la natura, con i suoi cicli e con gli esseri viventi, animali e piante, di cui ci si prende cura. Il verde permette di sintonizzare il nostro corpo con la vita. Per un bambino questo è un passo essenziale della crescita, tant'è vero che giocare con la terra, toccare gli alberi, toccare le foglie, capire i colori, sentire le stagioni. È un momento essenziale per imparare a regolare il nostro corpo e regolarlo anche in rapporto con gli altri. L'aspetto del prendersi cura permette lo sviluppo del senso di responsabilità, della capacità di investire sul compito e in salute mentale questo è determinante perché aiuta ad esplorare se stessi attraverso la cura delle piante, attraverso il lavoro e il rapporto vivo con gli esseri viventi della natura. Quindi è qualcosa di fondamentale che bisogna apprendere facendolo.